Guido, Investing Napoli 2019, Investing e soprattutto formazione, un commento da parte tua? Soprattutto l'evento del centro-sud, ricordiamo Roma e Napoli, ed è importantissimo in questa fase storica dei mercati perché con i rendimenti di obbligazioni negative l'investitore non sa più dove investire con sicurezza per ottenere un rendimento. Oggi deve rischiare un pochino di più per avere un pizzichino di più di rendimento e quindi è difficile per l'investitore medio. È importante pure la presenza di giovani, sono molti giovani e questo è un lato a favore di Investing, ma è una conferma che viene dagli altri anni. Quindi tanta formazione, ma tanta formazione operativa sia per l'investitore sia per il trader. Navità di Trading Room? Come Trading Room Roma abbiamo aperto una nuova sede all'euro sempre a Roma e quindi siamo sempre in espansione. C'è tanta richiesta e voglio sottolineare che ultimamente ci stanno contattando molte donne. Nel lato femminile il trading si vede che sta facendo presa anche sulle donne che era un pochino una nicchia della nicchia. Speriamo bene per il futuro.